Una giornata importante perché si è consolidato il rapporto virtuoso tra regione e governo, la Melonia ha sottolineato tra regioni e governo, per queste sono le modalità con cui il governo orienta flussi finanziari aggiuntivi, anche quelli che eventualmente sono stati ritirati dal PNRR perché non attuabili e quindi si mettono a disposizione di progetti strategici come per esempio la messa in sicurezza del territorio ed altri che per noi sono veramente una cosa straordinariamente importante quindi una buona giornata per tutto il Friuli, sono contento che sia venuto a Pordenone. Uno sviluppo che prevede ovviamente interventi in vari settori, questi fondi dovranno servire proprio per sviluppare le infrastrutture, per sviluppare quelle che sono le attività sul territorio che servono a chi fa impresa? Servono anche a chi fa impresa, in fin dei conti servono a tutta la comunità perché l'impresa è il cuore dell'economia di una società come il Friuli che è un territorio altamente maggiore.